E' un linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. Il linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. Il linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. Il linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. Il linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. Il linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale, è un linguaggio internazionale. di Stieffon Hauser. So, thank you for your love and kindness. Love you all. So, today and I have also some more amazing updates of Stieffon Hauser. So, be with me and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye. Don't forget to subscribe. Love you all. Buongiorno